Lo filmo, è un momento indimenticabile. Eeeh, ha vinto! Gli avversari, gli avversari. Scusami. Ecco gli avversari. Un abbraccio con lo sconfito. Chi è arrivato a secondo? Grande. Mettiti di fianco al secondo. Eccoli. Grandi, ragazzi. Sono il terzo? Terzo. Grande. Che gara. Bene. Consegnare i premi? Mamma, che marcio che sei. Ecco, la scelta del premio per il primo classificato. Per cosa lo prendi? No, hanno censurato le scene più... E' uguale. E' uguale. Uovo. 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 Qua sono tutte due demo? Uovo. Sono interi. Allora è nuovo. Ragazzi, ecco. Rompe quello che non sceglie. Ecco, la consegna del premio. Esulta, esulta. Ha vinto, ha vinto. I perdenti. Grazie mille. Hai vinto, come ti senti? Eh, grande. Ciao, saluta gli amici. Guarda che bello. Saluto gli amici da casa. Saluto gli amici da casa che mi hanno visto in questa giornata così particolare della mia vita.